allora ragazze sono arrabbiata da morire perché sono stata fatto degli acquisti da max factory al basco e anche da da bershka sono arrabbiata perché ho comprato da max factory degli asciugamani ospite ho comprato tante altre cose ma tra questi nel mio scontrino che tengo da parte perché ovviamente devo andare a reclamare ho preso due asciugamani uguali ospite due piccoli così grigi e uno sempre ospite un pochino più grande grigio così mi hanno fatto casino cioè uno l'hanno messo a 1,50 uno l'hanno messo a 2,50 l'altro l'hanno messo a 9,90 spiegatemi com'è possibile e quindi dovrò andare domani a reclamare con tutto l'ambaradan con tutta e non è vicino a casa quindi sono arrabbiata però ragazze buongiorno ben trovata in questo mio nuovo video vi faccio vedere cosa ho comprato da max factory un po a random ricarica e dispenser con ricarica anti zanzare una zanzara a casa mia che ha preso la residenza ci sta morsicando tutti poi ho preso da stare in casa per al 50 per cento costava 7 99 quindi praticamente 8 euro sono a 4 euro preso questo vestitino così proprio semplicino di tenere così in casa e poi ho preso ai via che male ma c'era una punta qua mamma mia c'è oggi proprio una malaiurnata ecco questo qui vestitino color glizzine color grigine guardate così da tenere in casa semplice molto carino così e questo qua pagato 8 euro costava 16 sono delle taglie questa è una taglia unica da tenere in casa semplicino così al limite per scendere sotto coi cani ecco quindi questi due ve li ho fatti vedere poi 24 fogli per il bucato questi qua pagati 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 non mi ricordo pagati come si chiama color block non lo trovo ovviamente non trovo mai niente sparito tutto che nervoso ragazzi quando non trovo niente ah sì 15 euro e gas per fare poi ce l'ho DRItTONI pagati 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 po Andre leorogia pagate pagati 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 palido pagati po chiuso il pane panno 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 pagati pagati me l'hanno venduto a 1 euro e 50 poi due posacenere in alluminio per il fumatore che il mio marito 1 euro e 21 tino lo scopino perché voglio buttare via quello in acciaio inox e lambarda non voglio più avere niente voglio solo avere questo che poi dopo un po lo butto via perché non voglio più avere roba da pulire con l'anticalcare questo tino lo scopino 3 euro e 20 così poi acquisto di mio marito toniana piastra griglia multifunzione bella pesante questa qui un prezzone 24,99 e va bene anche con l'induzione perché io ho il fornello induzione quindi questa va bene poi ho preso il quasar per la cucina questo mi piace tantissimo ha un ottimo profumo il quasar cucina 2 euro e 19 due cucce per i miei cani pagate 10 90 luna ve le faccio vedere aspettate lì una è questa 10 90 stile versace o versacci vedete questa così sia davanti che dietro e poi l'altra invece sempre 10 90 fatta così davanti con i qua quindi bianca a po neri e dietro tutta nera anche questa 10 e 90 poi due sapori multiuso questi qua mai più senza per me adorati alba 1 e 79 ciascuno poi ragazze alba cani e gatti lavapavimenti igienizzante questo qui ha un ottimo profumo di liso form mi è piaciuto tanto buonissimo dentro è blu ha un profumo fantastico questo qui 2 euro e 20 ce ne dentro un litro 2 euro e 20 poi ragazze finalmente alba pavimenti iris e fiori bianchi un litro questo pagato alba pavimenti vediamo subito alba pavimenti 1 euro e 09 anche questo profumo fantastico buonissimo finalmente ho trovato i detersivi alba che mi consiglia sempre antonella del canale i consigli di antonella poi alba gel sempre questo sapone per bucato a mano e lavatrice se non avete capito non avete capito bene a me piace moltissimo questa marca alba soprattutto questo genere qua alba 18 lavaggi 1 euro e 59 un litro poi vernell fresh control freschezza floreale anche qui 700 ml il vernell invece pagato pagato 1 euro e 49 un litro di piatti gel questo l'avevo già preso e mi sono trovata bene concentrato al limone questo qui costa credo poco perché esatto dual power 1 99 ottimo questo qua anche comodo con il dispenser poi un lanza brezza mediterranea 18 lavaggi questo pagato 2 euro e 90 e un soft multipolvere all'aloe questo pagato un euro e cino scusate un euro e 99 e questo è 22 lavaggi poi ragazze al basco invece perché poi questi così mi faccio un po di spazio al basco ho acquistato 1 2 3 4 e 55 vero alcol profumato il mio adorato vero alcol sempre preso grazie alla antonella del canale i consigli antonella la cara antonella che dispensa sempre consigli importanti favolosi questo qui pagato 1 99 al basco lo prendo lì perché negli altri posti lo pago quasi 4 euro quindi una follia io invece 1 99 ho fatto scorta ne ho presi 5 e qui abbiamo terminato detersivi e vari adesso vi faccio vedere cosa siamo andati a prendere da bershka io da bershka ho preso solo una cosa mio marito ha preso quattro cose per il lavoro allora questa è la busta di bershka mio marito ha preso due maglie uguali ve ne faccio vedere una per il lavoro queste qui a 9 99 luna eccole qua con questo tessuto qui un po anidodate un po elastico molto belle per il lavoro sapere mio marito fa il pasticcere quindi due così identiche una e una sono due quindi due così poi ha preso un pantaloncino nero un pantaloncino dello stesso tipo questi qui pagati praticamente 15 99 l'uno pantaloncini con le tasche guardate che carini c'è la tasca dietro e due tasche davanti più un taschino qua quindi con tante taschine questi qua fatti così ne ha preso uno grigio sempre per il lavoro e uno nero così è così due invece io mi sono presa ragazze per la modica cifra di 5 euro e 99 una cosa un xs costava 25 99 è una praticamente una felpa senza maniche cioè con la manica corta molto molto carina guardate che bellina manica corta così il suo cappuccio guardate che bella così dietro semplice e davanti così questa mi piace tantissimo tanto 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 proprio carina bellina e con la sua con la sua manica così corta e questo appunto da 25 99 l'ho pagata 5 99 e basta ragazzi questo era il mio haul grazie per la vostra compagnia andrò a protestare domani con tanto discontrino dai miei amici cinesi perché mi hanno fatto un pacco quindi andrò a prendere delle altre cose al posto non lo so un bacio a tutti a presto ciao ragazzi